Catavolo, fai lo scherzo di Pasqua, fingiti un addetto dello zoo di Bussolingo e fai finta, aspetta eh, perché si, sorella Emanuela fa la segretaria in uno studio dentistico, che cindra ah io faccio parte dello zoo di Bussolingo, ah ok, è scappato un animale signore lei fa la dentista, fa la dentista lei, la segretaria, si chiama Emanuela, Emanuela, mo la chiamo subito ah, il numero fisso mi ha dato, eh, 04040464, che numero è? 0464, è prefisso Andrea ho sbagliato, ho scritto 5, invece 4, 0464, oggi non ci vedo, cioè è incredibile, non ci vedo più dalla fame, Androgio, Androgio, andiamo avanti ragazzi, sono qua dietro, pronto? e pronto? Non ridere, è troppo forte, non si sente niente Ugo, dai, mi copre, copre la signora studio dentistico, buongiorno, signora Emanuela eh, pronta, signora Emanuela? Ho capito bene, lo studio dentistico cercavo, ho sbagliato? no, no, mi dica, ho chiamato giusto eh, sì, niente, sono del circo qua di Bussolengo, sono il nano, eh, purtroppo ieri ho fatto un numero col trapezio e se ho cascato mi sono rotto tutti i denti davanti ma non, veramente? eh, c'ho queste, come si chiamano, incisivi quelli davanti? incisivi? ok, ma lei non è mai venuto da noi? no, mi hanno dato questo numero, perché siamo qua a Bussolengo, stiamo facendo delle prove e siccome abbiamo lo spettacolo per Pasqua, volevo capire se riuscivate a fare qualcosa, insomma a rimettermi in qualche modo Bussolengo non è proprio vicino a noi voi non siete a Bussolengo? no, diciamo a Folgaria a Folgaria siete, ok, questo numero mi hanno dato è molto distante, mannaggia e potete magari magari c'è qualcosa più vicino verso, non so, Vicenza magari se no me li spedite, io mando il calco della cosa no, è possibile, entro Pasqua entro Pasqua non ce la fate, eh no, ma siamo anche distanti siamo distanti, se no venivo io quando ci vuole? Un'ora, un'ora e mezza di macchina? quando ci vuole? eh sì un'ora e mezza ma mi può segnare per oggi pomeriggio? che io parto no, noi oggi non riusciamo e noi chiediamo alle tre ma chiudete alle tre, mannaggia mi deve fare questo numero con ma lei non mi può consigliare qualcosa che assomiglia a Dendi? eh, deve provare qualcosa più vicino più vicino, ok ok, va bene grazie, è stata gentilissima signora arrivederci, arrivederci, arrivederci arrivederci, arrivederci no, tu sei un cretino tu sei, perché mi facevi ridere io non riuscivo ad andare avanti ah io io non riuscivo ad andare avanti mi hai riso in faccia sul nano del circo mi hai riso in faccia ma non si muore ma non si muore ma non si muore